Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi vi faccio vedere questa Opel Mokka benzina che abbiamo dovuto rifare la guarnizione della testata perché perdeva fra i cilindri l'intercapellina del monoblocco e quindi buttava fuori acqua dalla vaschetta. Ma quello che volevo far vedere, beh, queste cose possono succedere. Una vettura che ha 120.000 km e del 2013 a 16 anni si può anche allentare leggermente un bullone della testata si può un po' alterare il piano della testata, sono cose che possono capitare. Una macchina di 10 anni ci sta. Per quello che voglio far vedere voglio parlare della lubrificazione. Allora, la lubrificazione che secondo noi è fondamentale in un motore, è come il sangue che abbiamo noi dentro le vene, la stessa cosa. Praticamente, se mettiamo un lubrificante che non è adatto o lo cambiamo con degli intervalli troppo lunghi, succede questo. Guardate sopra questi pistoni cosa non c'è. Qualsiasi roba. Vedete? Guardate. Tutte queste morche qua, guardate questo pistone qua poi, specialmente dove c'era la guarnizione rotta, vedete? Queste morche qua sono date sì un po' leggermente dalla combustione che non è perfetta, ma più che tutto sono tutti i residui dei vapore dell'olio, di lubrificanti che non sono adeguati per questa vettura. Adesso, intanto che si alza il ponte, vi faccio anche vedere sotto, che abbiamo dovuto addirittura togliere la coppa dell'olio per andare a pulire tutte le morche perché togliendo il coperchio valvole, praticamente c'era, avete presente una marmellata, una marmellata che è data da lubrificanti che non sono adeguati per questa vettura o lubrificanti di bassa qualità. La coppa dell'olio l'abbiamo già lavata e pulita, ok? Qua siamo già a posto, ma adesso andiamo a vedere sotto. Così almeno mi rendete conto quando io dico che l'olio va cambiato ogni 15.000 km o una volta all'anno. Anche se avete solo fatto 5.000 km l'olio va cambiato perché perde il potere lubrificante e poi succede questo. Guardate, vedete? Vedete tutte queste parti qua di marrone? Vedete? Queste qua sono tutte cose che non ci devono essere. Qui dentro era tutta una marmellata. Sicuramente questo poi dopo va a intasare tutti gli sfiati del motore, va a intasare tutte le parti aeree che ci sono all'interno del motore perché nel motore ci sono delle parti lubrificate, delle parti in cui circola il liquido del radiatore e la fredda e ci sono tantissime parti aeree. Quando il motore gira non è chiuso, non è chiuso perché girando, facendo movimento l'albero motore che provoca un spostamento di aria che questa aria ha bisogno di uno sfiato per poter uscire. Quindi noi abbiamo tutti gli sfiati del motore che sono collegati col collettore di aspirazione per il recupero dei vapori del motore e devono essere liberi. Se c'è tutta questa marmellata che gira, gli sfiati non saranno liberi, sia sul motore diesel sia sul motore benzina. Questo è un motore benzina. Poi cosa succede? Magari la macchina non tiene bene il minimo, le sonde lambda non funzionano bene, la carburazione non è corretta, la macchina consuma, non si sa il perché, boh, cosa sarà successo? Abbiamo degli sfiati che non funzionano bene e già questo può succedere. Quindi la lubrificazione è il fondamento della manutenzione di una macchina. Poi potete anche andare col filtro del clima sporco, respirate male, per la carità, ma non succede nulla, arriva poc'aria nell'abitacolo, ma non succede nulla. Invece nel motore la parte fondamentale è la lubrificazione. Come il liquido del radiatore ogni 5-6 anni, questo liquido che è lì che gira, e cambiamolo. C'è 4-5 litri di liquido, cosa costerà mai? Ma avremo sempre l'impianto di raffreddamento perfetto. Non avremo un impianto di raffreddamento pieno di morchie. Guardate, guarda che roba. Questo vuoi tutto calcare. Perché dopo qualche anno il glicola etilenico perde di efficacia, come tutte le parti liquide che andiamo a mettere nel motore. Non è che l'olio è eterno, il liquido del radiatore è eterno, è tutto eterno. Tutta una durata, tutta una fine. Quindi non c'è una legge scritta su delle tavole, ok? Però c'è il buon senso. Quindi se una volta all'anno uno sostituisce il lubrificante, ogni 3-4 anni sostituisce l'antigelo, ogni 4-5 anni sostituisce il liquido dei freni, perché va cambiato, addirittura una volta la BMW, o ancora adesso, ma ancora una volta di più, lo dava da cambiare ogni 3 anni. Utisciva una spia sul cruscotto di cambiare il liquido dei freni. Ci sarà un motivo, no? Quindi la manutenzione ordinaria, fatta, come si deve, magari nell'arco della vita della macchina spenderete qualche centinaio di euro in più, ma sicuramente non avete gravi problemi che possono derivare da una manutenzione ordinaria mal fatta. Questo ve lo posso assicurare. Quindi ricordatevi sempre che prevenire è meglio che curare. Ciao a tutti e alla prossima!